Niente azzeramento immediato della giunta regionale ma convocazione degli stati generali del centro-destra a cui seguirà il rimpasto nell'esecutivo. E questo è il cronoprogramma fissato dal presidente della regione Cristian Solinas nel corso del vertice di maggioranza tenuto ieri a Villa Devoto cui hanno preso parte i rappresentanti dei partiti che sostengono la giunta. Gli stati generali alla presenza di assessori, consiglieri regionali, parlamentari, sindaci si terranno il 21 o il 22 ottobre. L'obiettivo è quello di fissare i punti del programma da portare avanti nell'ultimo anno e mezzo di legislatura. Quindi niente decisioni affrettate sull'onda dei risultati elettorali di domenica scorsa che hanno sconvolto il quadro politico regionale con un ribaltamento dei rapporti di forza all'interno del centro-destra. Fratelli d'Italia è diventato il primo partito non solo della coalizione ma della Sardegna mentre Pisdaz e Lega hanno visto i loro consensi crollare. A tenere invece sono stati Forza Italia i centristi e alleati nella formazione e noi moderati. La linea sembra essere quella di avere come punto di riferimento le elezioni del 2019. Lega ha ribadito di voler tenere i tre assessorati e dalle altre forze politiche non sono arrivate, almeno ufficialmente, richieste di riequilibrio in base ai numeri di domenica. Rimane l'impressione che si sia voluto prendere tempo e valutare quanto accadrà a Roma dove il 13 ottobre si riuniscono Camere e Senato per le elezioni dei presidenti. Poi il 24 dovrebbero iniziare le consultazioni per il nuovo governo con l'attribuzione dell'incarico di primo ministro a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. In questo contesto, con alcuni esponenti sardi papabili per ministeri e sottosegretariati, il centro-destra spera di chiudere il cerchio concludendo la verifica con un nuovo assetto di giunta che arrivi poi fino al febbraio 2024. Sottosegretariati